Diamo il benvenuto a Francesco Sarcina. Eccolo, ciao. Allora, ieri abbiamo assistito alle prove. Sono state le tue le prove più divertenti. Proprio si vedeva che avevi un entusiasmo che coinvolgeva anche il maestro Beppe Vesicchio. Ah beh, sul maestro Beppe Vesicchio, ragazzi, non si può fare una standing ovation perché è magico, trasmette un'energia fantastica sul palco. E poi è simpatico. Io con Beppe mi farei una vacanza, tipo in Messico andrei, così, un po' persi, capito? A parlare, perché è molto spirituale. Mi piace. Poi la sua energia tu la trasmetti a tutta l'orchestra. E sì, c'è questa triangolazione, capito? Esatto. Va bene, sono contento, sì. E ieri ero anche abbastanza, vuol dire, composto durante le prove. Quindi ti scatenerai? Ero assolutamente regolato, non mi sono lasciato andare. No, e beh, erano le prove. Sì. Cosa prova? Però di solito magari c'è un po' di tensione, non le prove generali. No, ero abbastanza tranquillo. Abbiamo fatto tante di quelle prove, voglio dire. Poi io ho staccato cuffiette e robe, tutto naturale. Non abbiamo click, suoniamo proprio l'orchestra, segue il mio ritmo. Che, capito? Con Messico abbiamo questa triangolazione invece dietro. Che abbiamo, il ritmo è dato da noi, insomma. Bellissimo. Parliamo un po' delle canzoni che proporrai, che fanno parte del tuo nuovo album intitolato Io. Sì, perché non volevo dilungarmi. Siccome mi dilungo spesso nelle interviste, l'ho detto, perché nel titolo dilungarmi? Io. Beh, in realtà, cioè, Io è un titolo semplice, però è giusto, insomma, rappresentativo per quello che in realtà è questo disco, perché è semplicemente un album che mi rappresenta in tutto quello che è stato scritto, ma anche in tutto ciò che è stato suonato. Perché è un album che ho suonato tutto io. E vuoi, perché insomma, arrivo dalle vibrazioni, quindi in gruppo, insomma, storico, con il quale abbiamo fatto tantissime cose assieme, con il quale si è creato anche un sound che era proprio tipico nostro. E quindi mi sembrava anche un po', non dico brutto, però era difficile andare a capire chi far suonare nel mio disco. Senza nulla togliere i grandi turnisti che abbiamo in Italia, però non mi sembrava il caso. E quindi, visto che comunque io suonicchio un po' tutto, mi sono messo a suonare. da un'idea del nostro amico produttore Roberto Vernetti, che però, certo, insomma, è un conto suonare la batteria o il pianforte così per ridere, un conto fare un disco. Però, vabbè, insomma, abbiamo studiato, ci siamo messi lì, ci abbiamo messo solo nove mesi a fare il disco, però è venuto fuori. Di queste due canzoni che invece proporrai, lo so che è difficile da chiedere, anche da rispondere. Qualcuna, una in particolare che preferisci? Per me non è difficile, io so già che vorrei che passasse nel tuo sorriso. Ok. Proprio no way per la... Ma non per l'altro, perché nel tuo sorriso è sicuramente la canzone più sanremese. Si presta, c'è un ritornello, vabbè, è una sarcinata, nel senso che è proprio la mia, insomma, firma tipica. Ma poi è la canzone che ho scritto per mio figlio, è una cosa, insomma, che parla proprio del futuro, cioè di una proiezione di un domani, quindi della possibilità di vederci ancora sorridere un domani, cioè dargli la possibilità di poter sorridere, dargli una serenità futura, cosa che probabilmente le vecchie generazioni non hanno fatto pensando a noi, infatti oggi ci stiamo proprio, come dire, nella... Ecco, e quindi è questa. In questa città, l'altra canzone, non è una canzone che non amo, è una canzone che mi piace moltissimo, ovviamente, insomma, è il mio disco, quindi mi piacciono molto, sono cose che ho scritto, quindi... Però è una canzone bella, è una canzone che parla meno coinvolgente, cioè parla comunque della città, di quanto la città ti dà e di quanto però ti toglie, quindi, insomma, questo annichilimento un po' dei sensi, tutto là. Invece nella serata di venerdì duetterai con Riccardo Scamarcio in una canzone storica di Zucchero. Sì, Diavolo in me. Diavolo in me perché chi non ha un diavolo? C'è chi ha un diavolo per capello, ma almeno un diavoletto, o chi no, però almeno un diavoletto uno ce l'ha, quindi... Sì, la scelta comunque è di fare un pezzo bello, ritmato, poi Zucchero è un grande. L'idea di farla all'inizio era un po' difficile da pensare perché, insomma, Zucchero è molto particolare, è proprio lui, quindi anche rifarlo è difficile per non cadere nel limitarlo, che sarebbe tragico, no? E devo dire che è nata dallo scherzo, ma poi facendola invece, a parte che è una gran canzone, è divertente, ti fa proprio saltare, Scamarcio, vabbè, un fratello per me, ci conosciamo da un sacco, noi facciamo realmente nella vita privata quello che vedrete. Infatti è stato divertente anche discuterne con lui perché gli lettori dicono che dobbiamo solo andare lì e fare quello che facciamo a casa. Quando ci vediamo che mangiamo, quei rari momenti che possiamo stare tranquilli, che ci facciamo un weekend o a casa sua o a casa mia in studio, quando ci si incrocia o anche per lavoro, non manca mai una jam session, non manca mai una improvvisazione, ci mettiamo lì e suoniamo. E questa cosa ce la portiamo a Sanremo, una cosa molto divertente. Alla batteria ci sarà anche la mia bassista, quindi ci sarà una mini band fatta apposta sul palco e tanto funky, funky, bello, bello, bello. Tra le tue passioni ci sono gli occhiali da sole, ne hai più di cento e una volta. Però non li metto, mi hanno vietato a mettere un'intervista che fa un po' appassito, ti appassisci un po', si dice. Allora noi vogliamo fare questi occhi stanchi, ricchi di emozioni. Un'altra tua passione era, perché adesso da quanto hai dichiarato e hai messo la testa a posto, le donne. Allora le donne non è che sono diventato, capito? Non è che sono passato l'altra parte, senza nulla a togliere, perché nel senso open mind, io vado, pace e amore a tutti, l'importante è stare bene, godere e fare l'amore, con rispetto e simpatia. Le donne certo che mi piacciono ancora, non è che non mi piacciono più. No, dicevo che ti sei fidanzato. Vabbè, ma ogni tanto accade quando si fidanzi, no? Certo, più che altro è bello innamorarsi, questo è più bello. È bello quando c'è qualcosa che ti prende il corasson, perché poi scrivi anche le canzoni, perché vivi meglio e quindi in conseguenza ti prendi cura di te stesso, di un amore, dell'altra persona e ti fa vivere meglio. Insomma, finché si vive bene è giusto stare così. Poi, insomma, le vie dell'amore sono infinite. Bene, con questa perla bellissima salutiamo Francesco Sarcina. Sì, perla di saggezza proprio. Ciao.